se ripensa al 2003 a parte si parla di quasi 20 21 anni fa si chiedono se sono troppo vecchio o se ero troppo giovane però lì le emozioni tante tante perché la prima volta perché non sai quello è quello che ti aspetta perché arrivi al palio e poi la belle corsi 18 prima da correre perché la gente qualunque cosa ti dice ha visto lì ti fa un effetto strano perché invece di caricati lì forse è più che ti butta ti butta a terra capito anche perché poi è parecchio diverso da quello che si fa oggi perché oggi vedi a te ognuno ha o quasi tutti hanno la sua scuderia hanno su cavalli hanno su asini c'è arriva al palio e poi la belle corsi capito che che ti voglio di nel senso sì certo dice la competizione è tutto ma ci arrivi troppo più preparato di prima prima non si andava a cesa ci si montava tre volte ci si presentava al palio quindi era tutta proprio tutta un altro palio tutto a tutti altri asini era tutta un'altra cosa però ripensarci bello perché ero più giovane perché pensieri ce l'avevi parecchi meno perché era solo un divertimento ora invece non è più solo un divertimento perché c'è è ingrandito tutto come ingrandita la corsa ma sono grandi telecontrade come ingrandito tutto il palio in generale dai non ti nascondo che per me il palio vero è quello che fu da due anni quello che si fa da due anni perché perché il canape anzi partiamo da prima siamo partiti e si oriva nella pista si faceva tre giri se non sbaglio però era un altro palio perché gli asini erano asini che le portava innanzitutto che portava tutti un ciucaio e asini diversi secondo me non hanno niente a che vedere con quelli di ora anche se ce n'era qualcuno giustamente magari poteva starci benissimo però era proprio tutta un'altra cosa ma soprattutto se era noi che si arrivava lì non si era quelli di ora perché ti ripeto ora si fa si fa anche se io per esempio c'è un asino cavallo non è che io esco un giorno uno un giorno un altro anche se lo fa per andare divertiti e lo fa perché hanno la tua passione però poi se ce l'ha andata a correre una corsa in palio sei pronto lì non si andava davvero te te lo ricordi si andava tutti la accesa si andava per divertirsi ma poi si andava tre quattro volte poi si andava a correre il palio dopo di che poi si cambiò con questi ragazzi si prese qui di sotto dove c'è alessio più avanti si prese un pezzettino di terra insomma ci si mise ci si metteva 6 7 su e tutti noi alla fine sarà tutti belli e si arriva al palio e si montavano e allora già era una cosa diversa perché anche la si ne erano più allenati più insomma iniziava essere un palio diverso dopo di che siamo passati da fuori nella pista breccino addentro e già lì secondo me per quanto riguarda me è più è più è più bello è più organizzata e organizzata un'altra maniera cioè secondo me è più innanzitutto la pista è meno dispersiva all'asini si vede insomma tutto ma è diversa cambiamento a possiamo passare dalle presse che delimitavano la pista a alle stagionate vere insomma a una stagionata come quella degli ipodromi e ora è solamente a se lo vedi ti sembra davvero una pista una pista da corsa e poi oltretutto c'è stato l'ingresso del canape e lì è proprio cambiato secondo me tutto 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 il palio tra l'altro il canape combacia con il bando giusto col bando degli asini che secondo me ancora un passo avanti perché innanzitutto ti permette di aprire al mondo esterno perché ognuno con l'iscrizione può venire può e può scrivere su asini e portarli insomma al palio e poi perché se le scelte dei capitani sono scelte secondo me intelligenti perché questo passo è stato fatto per livella il palio permette tutti nelle condizioni di andare la sera a casa essere contenti perché la cosa brutta di prima è che più delle volte il giorno prima già quando davano gli asini si sapeva quello meglio quello peggio c'è qualcuno indovinava il primo giorno del terzo per carità a volte succede anche oggi ma perché se ti danno la possibilità di scegliere magari non è facile a volte anche io sbaglio le scelte ci può restare però ecco ti metterà ti dà la possibilità di fare un qualcosa di livellato dove giustamente c'è ora un guardafantini che corrono ma le gente della contrada aspetta tutto l'anno quel giorno lì con tutte le feste prima tutto è giusto che ognuno il sabato sera andasse a casa con le speranze perché se non insomma vince la cosa bella ma la cosa più bella è divertirsi il divertimento parte dal giorno prima giorni prima della contrada e se uno arriva al clou dove va a casa senza nemmeno una speranza secondo me ha poco senso ecco c'è la voglia a sciarno di rimanere cofantini del posto c'è anche bisogno di qualche giovane perché perché oltre qualcuno è venuto fuori ora ma siamo sempre in diversi e si vuole da diverso tempo ora io per ora sto bene mi diverto e lo fa volentieri finché ce la fa e sto bene ripeto mi diverto da una possibilità di le contrari da una fiducia è una cosa che mi garba che ci garba e si fa volentieri però c'è anche bisogno di qualche giovane viene fuori perché insomma non è che uno può correre fino a 80 anni a un certo punto c'è c'è bisogno anche di un ricambio e questa secondo me e sarebbe una cosa molto positiva e in più bisogna bisogna da in modo alla gente da fuori di venire che è la cosa più importante pubblicizzarlo e quest'anno so che ci sono diversi cibi iscritti al bando è già una cosa positiva perché sa partiti da 12 anno scorso 17 quest'anno c'è anche gli interi quindi faranno che le batterie con gli interi perché sono sempre divisi interi e castroni e secondo me non lo so già comunque aveci 25 26 asini secondo me per il padasciano deve essere una soddisfazione perché giustamente quando vedi la gente che viene ci vede volentieri vuol dire che la cosa funziona e la cosa garba certo sicuramente dare la possibilità a chi viene da fuori un incentivo per venire nel senso un qualcosa perché insomma se uno ti pensi che deve fare un viaggio da lontano ci hanno da pagare un'iscrizione ci hanno da stare fuori il sabato la domenica ci hanno da dormire insomma iniziano a essere spese è anche giusto che secondo me almeno non lo so ma almeno le contrade dove diciamo l'assino che tocca la contrada al proprietario secondo me se viene ospitato può essere una cosa molto positiva dove la gente ci viene più volentieri anche perché premi sono divisi alla fine nei primi due quindi quell'altri cinque vanno a casa senza niente insomma iniziano a essere spese non è che tutti lo fanno per lavoro più lo fanno per divertimento insomma inizia a essere un divertimento costoso ecco quella dove corro ora quella della pergola perché perché per forza di cose 20 25 anni e la contra non vince le aspettative giustamente so alte le pressioni sottante e purtroppo non tra insomma 25 anni e non vince la cosa inizia a essere pesa anche se io e tanto che corro e giustamente la vivi in una maniera diversa da uno e magari poteva essere uno di contrada come da voi hanno corso a volte che credo sia ancora piuttosto però insomma 25 anni sono 25 anni e si chiede poi purtroppo due anni fa è andata come è andata l'anno scorso le possibilità erano quelle che erano e vediamo quest'anno di quando ho iniziato giustamente ti ripeto era più un gioco che era la passione c'era al piccino perché mi sono sempre garbati i cavalli il palio dei sciuchi e tutte queste cose qui e lì sai lì ripeto lì è una cosa che la fai più per divertimento che per altro poi dopodiché la cosa garba e inizi a fare le cose più per bene e secondo me nel mezzo nel mezzo chiamiamo la carriera ma di certo non è una carriera nel mezzo di questo tempo credo che potevo fare parecchio meglio a livello proprio non lo so non ti so nemmeno di l'aggettivo ma mi mancava qualcosa mi mancava qualcosa che poi forse con la maturità con la consapevolezza di quello che fai quando vai a fare queste cose perché ora vai al palio io mi sento tranquillo perché vai lì e sai quello che fai e quando sai quello che fai le cose ti vengono meglio per forza poi tutti c'è da migliorare sempre tuttora anche io non è che c'è sempre qualcosa da imparare da quell'altro anzi se c'è qualcosa da guardare per imparare il primo che chiedo che e che mi garba perché tanto questo mondo dove che siano asini cavalli o quello che vuoi ma non si finisce mai imparare però giustamente ecco avrei voluto avere la testa di ora non ti metto di quando ho iniziato ma di dieci anni fa perché cambiamento è grosso non c'è niente da fare ora sei consapevole e sei tranquillo e va a fare una cosa che savelo e fai prima no prima ci andavi era più ma non era non era non era come ora e quello ti cambia tutto secondo me ma io il mio obiettivo personale è sempre il solito io siccome credo che la soddisfazione più grossa per quanto riguarda me è che quando una contrata ti chiama è onorare la gente che ti chiama perché alla fine io vengo per ultimo e la mia cosa sono tre minuti e invece c'è la gente delle contrade che tutto l'anno si danno da fa tutto l'anno tribolano si impegnano c'è una passione le vedi ridere vedi piangi poi quando va lì l'importante credo sia sempre fare il meglio e soprattutto quello che ti chiede la contrata che mi ha sempre quello poi dipendi da contrari e contrari quello che ti chiedono ma comunque io credo che quando uno ha onorato quello ha portato in fondo quello che gli hanno chiesto del meglio dei modi io ci provo sempre non sempre ma come le va andà quando si vince va bene quando si perde c'è stato c'è chi è stato più bravo di te c'è un po da fa è così è l'importante è divertirsi questa è la prima cosa divertirsi sia nel personale vuole di andare a casa alla sera come ti dicevo prima con le possibilità di arrivare il giorno dopo e giocarti le tue carte perché una cosa c'è tipo come anno scorso vai a casa e sai già come vanno le cose non è un divertimento secondo me purtroppo ci sono anche queste cose che sono scelte e si accettano però dato che ci sarà possibilità si è fatto di tutto per mettere un bando permettere gli asini livellati su per giù livellati poi non è facile non sarà ma così però secondo me bisogna arrivare a che tutti vadano su quell'alieno perché sennò ha poco senso quello è stato fatto poi più bravo è più l'asino più forte e l'asino meno forte così come il fantino più bravo e il fantino vero bravo ci saranno sempre però se i livelli sono vicini è un divertimento se i livelli sono lontani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti